Presto attenzione a tutte le osservazioni e le riserve, anche a quelle espresse in modo più sommario e perfino aggressivo, da tutte trarrò beneficio per l'ulteriore svolgimento del mio mandato, che consiste nel rispettare la Costituzione, nel contribuire a farla vivere, nel richiamare i suoi valori, i suoi principi e le sue regole. A qualche fiero guerriero sembra che io lo faccia con la piuma d'oca, sempre meglio si potrebbe dire che un vano rotear di scimitarra. Chi poi invoca, polemicamente e di continuo, poteri e perfino doveri di intervento che non ho, mostra di aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo non presidenziale che sia affondato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!